Buongiorno ragazzi e ragazze, signori e signore. Ho pensato molto oggi. Mi sono fatto una domanda. Di che cosa ho bisogno? Finalmente mi sono detto che ho bisogno di niente, ma di un milione di euro. Perché no dollari americani? Invece di andare nella strada e domandarlo, mi sono detto che posso fare questo video nel YouTube. Perché no? Però spesso mi domando, magari domani, dopo domani, la prossima settimana, dovrò morire. Ma nella tutta mia vita ho fatto niente. Adesso faccio niente alle persone che amo moltissimo. Ecco perché ho deciso di fare questo video. Magari fra qualche tempo devrò morire di cancro. se vuole scrivermi può trovare il mio indirizzo nel mio profilo. ma devo dirvi una cosa. C'è qualcuno che amo molto, ma non posso fare niente per questa persona. Grazie per la vostra attenzione. e magari, magari, magari non posso dire arrivederci. Arrivederci per sempre. Sì, ma non semplicemente arrivederci. Grazie ancora una volta di vostra attenzione. Grazie per la vostra attenzione. Grazie per la vostra attenzione. Grazie per la vostra attenzione.